Ciao ragazze, velocissimo video faccia del giorno, lo so sono stata un pochino latitante in questi giorni perché sono stata incasinatissima e avevo un sacco di cose da aggiustare sul canale quindi non ho avuto veramente tempo per fare video quindi ho detto perché no faccio un veloce video faccia del giorno, punto primo per augurare a tutte le genovesi un buon 24 giugno perché per noi oggi è festa quindi non si lavora e poi per invece dare un salutino a tutte le altre ragazze che mi stanno guardando velocemente vi dico come sono vestita e come sono truccata, allora i capelli li lascio lisci, tranquilli, ho semplicemente aggiustato la frangia perché era tutta sparata in su e il vestitino che indosso oggi è un vestitino di pinkie che ho preso ormai credo due o tre stati fa tranquillissimo con un fiocco qui davanti che si può eventualmente legare intorno al collo ma io preferisco tenerlo qui perché intorno al collo mi dà fastidio, fatto tipo a palloncino, ci ho messo sotto un paio di leggings di quelli a pinocchietto così, non fate caso alle ciabatte, perché sono veramente bianca bianca bianca, mi sono depilata ora ma ero agghiacciante con le gambe scoperte quindi ho detto mettiamo i leggings, metterò un paio di infradito nere e dorate, quindi tranquillissime e vi faccio vedere velocemente anche il trucco ho messo il pigmento della linea Colors in the World, quello azzurro, sulla palpebra mobile e nella piega ho dato il matitone long lasting di Kiko numero 05, l'ho sfumato bene matita marrone di bottega verde della linea estiva, che ora non mi ricordo come si chiami, ma tipo tropic qualcosa nella rima interna e sotto l'occhio sulle guance il 12 di H&M, sulle labbra ho il nude della linea China Doll di Pupa sul viso il fondotinta di Debbie, quello che sto utilizzando ultimamente e che mi piace un sacco ho una specie di bubone qua, che non so se notate, ma il fondotinta lo copre bene quindi mi ci sono svegliata stamattina con questo bambino della casa di Pony sulla faccia non si sa per quale motivo, anche perché non ho neanche mangiato schifezze, quindi boh vabbè e niente, alle orecchie porto dei semplicissimi orecchini di pinky rosa, quindi tranquilli il mio Chops, che non lo avete ancora visto, è la versione cinese praticamente dell'OPS e devo dire che sta rendendo molto di più, perché l'ho già bagnato 7800 volte e non si rovina quindi non comprerò mai più un OPS originale in vita mia questo l'ho pagato 3,90 euro dal cinese, va più che bene e per chi fosse interessato ad acquistarlo l'ho preso dal cinese che c'è in zona Brignole, vicino alla stazione quello grosso che ha aperto da poco, ora non ricordo come si chiama, comunque per le genovesi è facilmente rintracciabile direi basta, niente di che, quindi un look tranquillissimo, vado da Cri, pomeriggio assieme poi lui stasera va a fare la notte, quindi diciamo un look da pomeriggio col mio fidanzato ok, a questo punto vi mando un bacione gigantesco vedo l'ora di poter registrare un paio di video, ora cerco di farli in settimana comunque niente, vi mando un bacio grande e al prossimo video, ciao!